Da un anno aveva lasciato Torino ed era tornato nella sua grigento. Andrea Puntorno, noto capo ultra della Juventus, avrebbe sempre continuato a gestire la sua vera attività, il traffico di droga. In società con il nuovo capo mafia della città dei Templi, Antonio Massimino. A carico del clan, anche sequestri di persona, istorsioni e racket. Addirittura una violenza sessuale non completa alla fidanzata di un debitore per intimidirlo. La DIA ha smantellato il clan agrigentino arrestando 34 persone. Non a caso l'operazione è stata chiamata Kerkent dal nome arabo di agrigento, che piaceva molto al boss arrestato Massimino, reggente della locale famiglia mafiosa. Puntorno, già noto come pusher, era uno dei leader del gruppo di ultrajuventini Bravi Ragazzi ed era già stato al centro di indagini riguardanti spaccio e bagarinaggio. A ottobre scorso confermò in un'intervista alla trasmissione Rai Report proprio l'attività illegale di vendita di biglietti, che lo faceva guadagnare tantissimo. Dipende, 30, 40, 25. Mila euro? Sì. Il giornalista che la realizzò, Federico Ruffo, nei mesi seguenti è stato anche minacciato. A Puntorno sono stati sequestrati beni per mezzo milione di euro. L'inchiesta è stata condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Palermo tra Grigento, Trapani, Catania, Ragusa, Vibo Valenzi e Parma.